Questa rubrica in apertura conferma il proprio sostegno al popolo ucraino e la condanna di tutte le efferatezze compiute non solo dall'invasore russo ma anche dai terroristi di Hamas e in diverse circostanze anche dalla repressione eccessiva portata avanti dal governo israeliano perché il male non ha un solo colore e bisogna condannarlo in tutte le sue forme. Venendo alle misere del nostro paese vorrei segnalare un'iniziativa che mi piace molto realizzata da Matteo Alisei e Ivan Grieco si chiama Free Taxi e consiste nell'offrire passaggi gratis alle persone in coda alla stazione Termini per sensibilizzare la collettività verso la situazione scandalosa delle licenze di queste vetture per la quale essenzialmente viene ampiamente tollerato che molti tassisti presentino delle dichiarazioni dei redditi palesemente irrealistiche così come che questa categoria sia capace di difendere la propria posizione di privilegio a danno del servizio dell'utenza pubblica dei cittadini senza che nessuna forza politica sia in grado di scalfire questa posizione. Quindi bravi Ivan e bravi Matteo e mi piace collegare questa iniziativa a quello che io chiamo il voto con i piedi. La mia newsletter dove faccio provocazione anche di carattere politico si intitola appunto io voto con i piedi e vi propongo questa scelta semplice. Vogliamo votare i partiti tradizionali quelli dove si fa carriera partendo dalle case occupate abusivamente facendosi poi eleggere in Parlamento e giustificare dallo stesso partito che condannava l'immunità parlamentare oppure dagli altri paettiti che all'altro estremo si comincia la gavetta facendo saluti nazisti e razzisti in piazza per poi arrivare ai vertici del partito. Questi sono i partiti tradizionali. Io dico che è meglio votare con i piedi, scegliere una causa come l'hanno fatto Matteo e Ivan e dimostrare al pubblico che si può fare politica anche senza votare, anche senza candidarsi. Arrivederci.